Parliamo di credenziali su git. Git utilizza un username per associare i commit ad una certa identità. Attenzione, lo username su git non deve essere necessariamente lo stesso che sia su github, sono due cose differenti, separate tra di loro. Attraverso il comando git config sono in grado di poter operare in termini di settaggio dello username o visualizzazione dello username. Github usa la nostra mail di commit per associare i commit al nostro account su github, cioè io posso scegliere un email address che può essere associato con i commit che sto facendo quando eseguo appunto un push sul repository dalla linea di comando e in questo modo ci sarà una sorta di match tra quello che sto facendo in termini di push e il mio account su github. Quindi verranno visualizzati i push relativi associati al mio account su github. Se non voglio visualizzare alcun tipo di informazione posso scegliere l'opzione no reply, ma andiamo a vedere direttamente nel dettaglio. Per fare il setup dello username per tutti i repository git config-global-user.name e specifico il nome. Se voglio visualizzarlo faccio semplicemente git config-global-user.name. Se voglio settare invece uno username solamente per quello specifico repository sul quale sto lavorando, anziché avere l'opzione meno meno global, specifico semplicemente git config-user.name. Stessa cosa per la visualizzazione. Posso fare la stessa cosa appunto per la email e quindi semplicemente anziché fare user.name specificerò user.email. In questo caso e in quest'altro caso. Ora, quando parliamo di caching delle nostre credenziali github in git, parliamo fondamentalmente di due opzioni differenti. Cioè abbiamo la possibilità di utilizzare il github CLI, quindi la, diciamo, direttamente un client che si può installare da questa URL. E quindi in automatico github CLI memorizzerà le nostre credenziali quando noi sceglieremo HTTPS come il nostro protocollo di comunicazioni per le operazioni git. Quindi in sostanza una volta installato il client dovremo inserire da riga di comando ghout login. Verrà richiesto qual è il nostro protocollo preferito e noi scegliamo HTTPS e quando ci verrà richiesto se vogliamo autenticarci con le nostre credenziali github dobbiamo mettere sì, seguiamo quello che ci viene richiesto e inseriamo quindi le nostre credenziali. E questo è un metodo. L'altro metodo invece è quello di utilizzare quello che viene definito il git credential manager che si trova direttamente incluso nel pacchetto del git package per Windows o per Linux o per Mac. Quindi una volta installato, la prima volta che noi proveremo a fare un qualche cosa che richiede autenticazione HTTPS ci verrà richiesto di fare login utilizzando il nostro browser. Quindi dovremo completare sul nostro browser la richiesta di autenticazione di login e una volta fatto questo verranno memorizzate tutte queste informazioni all'interno del nostro sistema, questo appunto git credential manager e quindi la volta successiva non avremo più problemi. Attenzione, warning, se per qualche motivo il processo di caricamento non dovesse andare a buon fine o dovessimo trovare degli errori, non riusciamo appunto ad accedere a github e quindi dobbiamo resettare le nostre credenziali che sono state memorizzate, che si trovano in cache. E quindi per fare questo qui dobbiamo andare sul nostro pannello di controllo, Windows in questo caso, andare su account, credential manager e cercare le nostre credenziali github. Quindi se noi andiamo direttamente nel nostro pannello di controllo, quindi scegliamo direttamente il nostro account, gestisci credenziali web o Windows, se andiamo nella parte di gestione credenziali Windows troviamo proprio la voce github. questa dovrà essere cancellata in modo tale da poter ripristinare tutto quanto il processo.